Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui, ritornati su Fortnite per andare ad utilizzare il pump del tuono. E no, non è un server privato, è una partita pubblica normalissima, è il pump che hanno tolto e che avevano messo durante la prima stagione di questo quarto capitolo, ma c'è un modo per ottenerlo. Alcuni di voi me l'avevano scritto nei commenti degli ultimi video, io non è che ci stessi credendo chissà quanto, ma poi un ragazzo di nome Antonio, mentre Rolife mi ha scritto guarda Gigi che esiste davvero, c'è davvero un modo per ottenerlo anche durante questa seconda stagione e mi ha spiegato come fare ed effettivamente era vero e quindi oggi ve lo mostrerò prima in una partita pubblica normale in zero build, ma poi andrò a fare anche una partita in arena per scoprire se è presente anche nelle modalità competitive come arena. Lì non lo so neanche io, lo scopriremo insieme. Tra l'altro vi ricordo che questo è il secondo video giornaliero, è uscito quello delle sette come al solito. In questi giorni passati sono usciti tre video al giorno, quindi recuperateveli tutti perché sto trattando questa nuova stagione a 360 gradi perché mi sta facendo impazzire, la sto adorando, quindi recuperatevi tutti i video che sono già usciti e non vi dimenticate di controllare di essere iscritti e di attivare la campanellina perché ovviamente continueranno ad uscire una marea di contenuti. Voi non siete pronti ragazzi, non siete pronti. Prego a continuare il video, però ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccato ai negozi oggetti di Fortnite. Mi raccomando ragazzi, è davvero fondamentale per supportarmi, quindi controllate sempre che sul supporto a un creatore ci sia scritto GGYT, tutto grande, tutto attaccato, anche perché ogni due settimane il codice scade dovete reinserirlo. Grazie a vero di cuore a chi lo farà, è davvero fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto come vi dicevo prima, lasciate un bel mi piace per supportare il video, ho messo pronto e adesso vediamo un po' cosa riusciamo a combinare con questo pump del tuono. Allora ragazzi, alcuni voi mi hanno detto che ci sono più punti dove ottenerlo, ora vi dico la verità, non ho controllato, però di un punto sono sicuro al 100%, dobbiamo andare a distese deliranti. Tra l'altro ragazzi io già ve lo dico fa abbastanza ridere la situazione e tra poco capirete il perché. Allora dato che ci sta atterrando un bel po' di gente, direi che prima di andare ad ottenere il pump del tuono stiamo un pochino attenti, perché la situazione potrebbe essere alquanto pericolosa ragazzi eh. Vabbè, allora un'arma l'abbiamo trovata, vi devo dire la verità, facciamo subito quello che dobbiamo fare. Allora andiamo dall'NPC, ma questo che cosa deve, che cosa voleva fare esattamente? Ma poi tra l'altro dove aveva trovato tutte queste armi raga? Dove le aveva trovate? Ma impazzisco, comunque dicevo fa ridere perché guardate questo NPC che cosa vi vende, il fucile a pompa Marasma Viola, che tra l'altro è fortissimo questo nuovo fucile a pompa, ma uccidendolo, questo NPC, ah c'ha la mitraglietta scarica, maledizione, oh eh non muore, uccidendolo vi darà il pump del tuono, il fucile pesante del tuono. Qui il pump che è uscito col capitolo 4 durante la scorsa stagione e che poi hanno tolto durante questa seconda stagione del capitolo 4. Ora ribadisco, alcuni di voi mi hanno scritto che anche l'NPC di bastione brutale se lo uccidete vi dà il pump del tuono, ora io non lo so, non ho controllato, devo essere sincero. E come vedete ve lo dà di rarità bianca, se ci sono altri NPC che ve lo danno di rarità un po' più alta vi consiglio di andare da quelli perché, fun fact, non lo potete potenziare. Infatti ragazzi, questo pump qui, adesso io provo a portarlo direttamente nella stazione potenziamento che qui a distese dovrebbe stare tipo qua dentro se non sbaglio, eccolo qui, tra l'altro buona la spada. Guardate, non me la fa potenziare, assegna un'arma potenziabile, non posso potenziarlo, proprio come se il pump non fosse strutturato tra virgolette per esistere durante questa nuova stagione. Ora io non so se è un bug, sinceramente non ne ho idea, sapete che io i video di bug non li faccio mai, non promuovo mai glitch, non promuovo mai bug, anche perché vi sconsiglio di farli perché rischiate il ban. Però questo mi sembra una cosa un po' carina, non so neanche se appunto in realtà l'abbiano fatta apposta. Secondo me ci sta a mettere delle armi agli NPC che magari non sono presenti nel loot, ma appunto uccidendo gli NPC potreste ottenerla, un po' come i boss, solo che i boss ve le danno mitiche. Qui invece stiamo parlando di armi che magari possono essere anche bianche, verdi o blu, non lo so, cioè potrebbe essere una cosa carina, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate nei commenti. Io adesso proverò anche a giocarmela, comunque sì, ho Serena qua vicino a me, dice che secondo lei è una svista, ma anche secondo me è una svista anche perché banalmente, cioè, l'avrebbero dovuto rendere potenziabile. Cioè, il fatto che non sia potenziabile, ora non so perché non ho preso l'ampliamento, devo prendere l'altro perk, ma va bene. Dicevo, il fatto che l'arma non sia potenziabile la dice abbastanza lunga sulla situazione. Ok, ok, ok. E quindi non lo so, regà, cioè, da capire la situazione, però sì, secondo me è stata più che altro proprio una svista. Detto questo, sono due cura bomba, quindi io direi che mi faccio questi, aspettate, che c'è gente, mi manca un po' il pump del tuono, devo essere sincero. Se lo tolgono poi ci mango male, cioè, se tolgono pure questi qua degli NPC, non lo verrò mai a prendere, perché comunque, regà, è bianco. Voglio dire, non so quanto convenga venirselo a prendere, anche perché come avete visto non lo potete potenziare. Però, boh, cioè, a me piaceva come pump, cioè, ci sono rimasto male infatti quando ho scoperto che poi lo hanno tolto. Vabbè, dai, regà, togliamoci la spada, sì, giochiamo con l'assalto, il pump e la mitraglietta. Oddio, però ci stanno pure le bolle scudo. Vabbè, vabbè, regà, non giochiamo per vincere, giochiamo per pushare, giochiamo per divertirci, quindi stiamo con tre armi e due cure. Tra l'altro, oddio, il tracannoniere, ma qui, ragazzi, era sponato... è sponata la fenditura con tutti i frighi. Qua se troviamo una marea di cura bomba, mi tengo le cura bomba. Oddio, però se non ci danno abbastanza... eh, sì, 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 sì. Dai, ragà, rimaniamo con le cura bomba, il tracannoniere per ora non lo prendo, però me lo tengo buono così, me lo tengo buono, cioè, per ora non prendo nessun perk. Proviamo a potenziarlo anche... no, stavo dicendo, proviamo a potenziarlo in un'altra stazione, magari giusto in quella stazione lì l'hanno bloccato, ma no. Tra l'altro qui mi fa troppo ridere come l'NPC ci vendeva questo qui epico e adesso l'avremmo trovato anche il leggendario, che è nettamente superiore a questo qui del tuono, però va bene, per il video questo ed altro, e dopo dovremo fare la stessa cosa anche in arena, eh, cioè, sia chiaro. No, regà, ma... mi dimentico sempre che l'NPC del lupo... si arrabbia. Qualcuno ha provato a cecchinarci, eccolo laggiù, eccolo laggiù. Ci ha provato a cecchinare il maledetto, sì, 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 sta col Barret a tenerci sotto mira. Eccolo là, oh mio Dio, che cosa vuole fare, che cosa vuole fare, amico mio? Dai, non passano i colpi sotto, non passano i colpi sotto, mannaggia la miseria. Non passano i colpi sotto. Allora, faccio una cosa di questo tipo. Ma non mi vedo il sovrascudo, raga. Benissimo. Che cavolo, regà, non mi vedo il sovrascudo, ma è scomodissimo giocare senza vedersi il sovrascudo. È tornato sto bug, è tornato questo bug, non ci posso credere, mi viene da piangere. Non ci credo, regà. Va bene, va bene, va bene. Allora, tra l'altro non l'ho nemmeno lootato perché... No, 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 sì, sì, sì che l'abbiamo lootato. Per un attimo ho pensato che dopo averlo ucciso stavo scappando per non rischiare di essere fightato a alcun altro. Tra l'altro ero andato lì dal lupo, fermi tutti, ero andato lì dal lupo perché erano spawnate le tre chest. Con quell'NPC spawnano sempre tre chest perché, insomma, vorrei migliorare sta mitraglietta. Non sarebbe male trovarla magari leggendaria. Certo, farei prima a controllare nelle olo chest, eh, avendo tutte ste chiavi. Probabilmente farai meglio, però va bene anche così, dai, complichiamoci la vita, perché no? Allora, regà, qualcuno si è fermato con la macchina qui. Ok, credo mi abbia visto, eh. E se non mi aveva visto adesso mi ha anche sentito. No. Ah. Se n'è andato. Se ne sta andato. No. Mi ha preso pieno. Ma mi riprende? Sì, vabbè, un mostro. No, 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 in realtà non mi ha ripreso, scusate. È stato il danno da caduta. Oh, ma questo... Ma regà. Ma no. Sì, vabbè, fratelli, scendi da sta macchina. Oh, ma ti arrampichi! Ma perché c'ho la skin buggata? Perché c'ho la... Eh, vabbè, a questo... No, non voglio... No, regà, gli volevo fare il loser. Gli volevo fare il loser. Vabbè. Questo se lo meritava il loser, eh. Questo se lo meritava il loser. Questo se lo meritava il loser, ragazzi. Però va bene uguale. Dai, ci accontentiamo lo stesso. C'avevo ancora i perk, regà, perché non sto prendendo i perk. Vabbè. Eh, vabbè, senti. Me lo pio sto tra cannoniere, dai. Me lo prendo. Prendiamo acrobata aereo, assolutamente. Eh, vabbè. Mo' mi ha fatto il balletto, ok. Vabbè. Riciclaggio del fucile pesante, così almeno non dobbiamo ricaricare sempre e comunque il... Il tuono. Comunque, in realtà, qualcuno mi sta ancora aspettando. Il problema è che non so se era lui. Vabbè, nel dubbio faccio il loser. Nel dubbio... Nel dubbio gli... Nel dubbio gli faccio il loser. Qualcuno, però, ci sta sparando. Stiamo attenti. Ragà, ma i proiettili passano attraverso l'albero, ma non mi itano. Vabbè, bro, tu sei un fenomeno. Questo mi sa che era un bottigiel. Cioè, mi ha pushato in campo aperto senza avere, magari, che ne so, la bolla a scudo o altre cose di sto tipo. Niente, non mi vogliono far migliorare la mitraglietta in questa partita, va bene. Oh, ma qua l'aria non la riattivano, eh. Qui l'aria non la riattivano proprio, regà. Ma come non hanno riattivato la scavalcata? Maledizione. Oh, eccola! Quella che volevo. La mitraglietta leggendaria. Let's go. Abbiamo fatto anche una missione così a caso. Mannaggia, se avessi potuto potenziare il tono, adesso avrei avuto tutto il loot leggendario. Ah, regà, stanno a fightarla. Ok, niente, non stanno più fightando perché uno dei due ha killato l'altro. Ok. Ma non mi hai tato? Regà, so caduto e ormai lo pusho. So caduto e ormai lo pusho. No, mi hai tato. Ma lui non lo sa che io al pump del tuone sono infermabile. Uh, che carina. Non la prendo però. Non la prendo, mi tengo quella leggendaria, ragazzi. Non la prendo, mi tengo quella leggendaria. Eh, no, qua non c'è niente a me interessa. Va bene, peccato. Tra l'altro, ragazzi, devo fare un video su quelle armi esotiche, eh. Lo so che sono rimaste. Pure di quelle mi stanno a scrivere in tanti nei commenti, ma lo so. Quelle l'avevo letto sin dall'inizio che erano rimaste. Mamma mia, ragazzi, infermabili. Infermabili col pump del tuono. Mamma mia, sta gente chissà che cosa sta pensando. Ma dove l'ha preso? Ma com'è possibile? Non è possibile che ha il pump del tuono. Che poi ribadisco, secondo me, col colpo singolo, il marasma, questo qua nuovo, è più forte. Però sotto alcuni aspetti è meglio il tuono. Per esempio l'estrazione. Cioè il marasma, queste nuove armi marasma, lo sto dicendo presente in tutti i video che sto facendo. Ma le nuove armi, sia l'assalto, quello silenziato, che il pump, sono molto lente come armi ad essere estratte. E non è una cosa da sottovalutare, eh. Ok, regà? C'è qualcuno qui. Tra l'altro c'è anche la corona. Quindi uccidere lui, prendermi la corona e poi farmi il fight finale non mi dispiacerebbe per niente. Se ne sta andando con la cosa. No, dai l'albero, mi ha bloccato l'albero, dai, non è possibile. Oddio, no, no, ce n'è un'altra di corona. No! Scammato così. Scammato così. Scammato così, ragazzi, non ho parole. Attenzione, bro. Qualcuno sta planando. Ho sentito qualcuno planare. Ho visto anche qualcuno planare. E questo qui con la spada avranno... Ma che cosa sto vedendo? Che cosa è successo? Cioè, questo si è venuto a rintana qua dentro. Vabbè. E sto, sono finito io nel panino, ovviamente. Non ci credo. L'avevo, l'avevo anche spaccato, regà. Cioè, avevo fatto una partita clamorosa. Cioè, questa è stata una partita clamorosa, rovinata, perché come al solito mi devo ritrovare nel panino. Ah, vabbè. Tra l'altro dietro mi ha laserato proprio quello che noi avevamo distrutto. Comunque, andiamo a mettere arena e vediamo che cosa succede. Vediamo se ci sta. Però ve lo dico. Dato che non voglio rischiare banno cose strane, se in arena dovesse essere presente, io non lo tocco. Nel senso, uccido l'NPC, vedo se ci sta. Se non ci sta, meglio, secondo me. Se ci sta, come credo in realtà, non lo tocco. Proprio perché, come vi ho già spiegato, io non voglio promuovere glitch, non voglio promuovere bug, non voglio promuovere errori di Fortnite da cui uno può trarre vantaggi. Non credo che il pump del tuono bianco dia dei vantaggi in game. Anzi, però comunque è un'arma che non dovrebbe essere presente nel loot generale del game. Quindi adesso banalmente uccido l'NPC, ma se ce l'ha io non lo tocco. Che poi così almeno ci facciamo una partita con quello, una partita col pump Marasma, questo qui nuovo. E nei commenti mi scrivete quale preferite, sia appunto quello vecchio del tuono oppure quello nuovo di questa stagione Marasma. Madonna mia, la gente ha distese deliranti, ma che è? Peggio dei pinnacoli, peggio dei megacity, ma che cavolo è? Ma perché tutta sta gente? No, regà, non ho parole. Eh, allora, regà, ho visto qualcuno atterrare nella casetta qua vicino. No, c'ho la mitraglietta nel coso sbagliato. Io direi che prima ci facciamo fuori un po' di gente. Io, regà, uno qua dentro l'ho visto atterrare. Se n'è già andato, se n'è già andato. Meglio per noi, meglio per noi. Allora. Ah, non c'è proprio l'NPC qui, regà. Non c'è... Ma quindi era rimasto lì. Ma regà, quindi non c'è proprio l'NPC. Quindi non c'è proprio il rischio di prenderlo, regà, il pump. Non c'è proprio il rischio di prenderlo. Eh, ok. Ok, quindi mito sfatato, no? Possiamo dirlo? In arena non lo si può ottenere. Non so se c'è in qualche altro NPC. Me lo farete sapere voi nei commenti. Io, nel dubbio, il mio l'ho fatto. Ok, no. È andato dietro. Ma che cosa sta facendo questo esattente? Vuole fightare o no? No, l'ho lisciato di brutto. Ok, perfetto. Ecco, però io vorrei il pump marasma. Chiedo troppo? Oh, no, passi qui. Ok, doppi passi qui. E che cos'è? No, regà, comunque ve l'ho detto. Io non ho mai visto tutta sta gente a distese, oh. Cioè... Cioè, non ho mai visto tutta sta gente a distese, ragazzi. Cioè, che cosa sta succedendo? Comunque c'era qualcun altro, eh. C'era qualcun altro. Ok. No, l'ho lisciato. Lì non mi fa buildare la cosa. Perché lo sto ricaricando ogni volta sto pump che ha 70 colpi? Non mi piace questa situazione. Non mi piace sta situazione. Non mi piace. Non mi piace. E poi vorrei provare l'altro pump, ragazzi. Cioè, provare. Oddio, in sti giorni ho utilizzato praticamente solo quello. Ecco, pure lui non ce l'aveva. Vabbè, ma allora me volete male. Ma ditelo, dai. Vi dirò, io preferisco il combat. Cioè, in realtà è meglio l'altro. Ma io ve l'ho sempre detto, con questo qui specialista non me ce l'ho mai trovato bene. Ma è proprio una cosa mia, eh. Ah, regà, se le stanno a dar laggiù. Non so, vabbè, sì, dai, andiamo. Chi se ne frega. Ah, no, si sta curando. E che cosa è successo di là? Ok. No, è quell'altro! No, ce n'è un altro ancora. Fermi tutti. Sta arrivando un quarto, regà. Oltre questi due qui ne sta arrivando un terzo. Anzi, con me quattro. Ne sta arrivando un altro ancora. Ecco, lo vedete? Ah, fermi tutti. Ok. No, non c'è intenzione di fai dare. Mi sa che ho messo male. Eh, ma regà, io ho la mia taglietta a scarica. Vedo questo. Che poi la fa? Poi è mio, poi è mio, poi è mio. E dai, edita subito. Eh, vabbè, regà. Ci ritiriamo un attimino. Se mi fa curare a questo punto mi curo. Questo è bravo. Più che altro i muri lì sono tutti suoi, praticamente. Sta qua. Eh. Ma? C'è. Scusate? C'è. Ma ho messo palesemente prima io il pavimento. C'è, ma di che stiamo parlando? C'è, io regà non ho parole. Ah, vabbè. Mo' me lo piglia subito il muro. No, anzi, strano. Molto strano. Eh, te pareva? Te pareva? Te pareva? Chi è che doveva finire il panino? Chi è che doveva finire il panino? Eh, ovviamente, cioè, no, vabbè, ragazzi, io non ho parole. Cioè, non commento. Non commento. Cioè, mi ero anche tutto buildato in ferro per non farmi rompere le scatole. Dico, chi sta lontano e vede del ferro non sparerà. Perché dovrebbe sparare? Vedete il ferro? Bello potente. No, loro, loro mi sparano comunque. Perché sono io. Perché mi sparano e basta. Maledetti. Comunque, detto questo, vi ricordo, ovviamente, il codice creatore GGY. Innanzitutto, grande, tutto attaccato nei co-suggetti di Fortnite. Fatemi sapere sotto nei commenti, quindi, quale preferite tra il marasma e il tuono. Fatemi sapere anche cosa ne pensate di questi NPC che hanno ancora il pump del tuono, se è voluto o non voluto, eccetera, eccetera. Iscrivetevi al canale se ancora non è stato fatto. Recuperatevi tutti i video che vi siete persi, nel caso in cui vi foste persi qualcosa. Lasciate un bel mi piace. Per me è tutto. Ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao, ragazzuali!